Ehi la ragazzi, ciao a tutti da Nikkei, bentornati qua su Farmix Simulator 17 Oggi ragazzi in compagnia di Mito e di Jakur Ciao a tutti Allora ragazzi, non lo scorso il gameplay come avete visto ho messo l'Eli 1 150 E come mi ha anche confermato Mito va più o meno utilizzato o manualmente o mettendo l'operaio Fatto sta che comunque ci siamo trovati veramente in difficoltà nel gameplay scorso a farlo funzionare Sto ben detto I1 e comunque anche se mettiamo l'operaio costa un botto di soldi Non mi piace spendere tutti quei soldi per sto Leli I1 Quindi ragazzi ho rimesso il vecchio Leli I1, quello funzionava benissimo Quindi che facciamo oggi? Vendiamo i Leli I1 quelli là, il 150 ragazzi lo vendiamo Se lo ritrovo naturalmente in mezzo a tutta sta lista è enorme Ma pure che mi tornano 4 lire non me ne frega niente e via Via sti cosi Cioè perché comunque se li devo usare manualmente non ha senso Perché a me mi serve per tenere il server acceso tutto il giorno E consuma troppo Tener l'operaio acceso Consuma troppi soldi Ma come cacchio si leva sto coso Consuma troppi soldi Mi dica, mi dica Io intanto vado a mettere un po' di concime alle serre Alle greenhouse Sì, sì, giusto C'è da concimare le... Sì, tanto sto venendo lì perché mo' compriamo il vecchio Leli I1 Che non è il vecchio ma è la versione aggiornata Quindi dobbiamo ancora trovarla Vabbè io chiamo vecchio perché la gente l'ha già visto Io dico il vecchio È la versione 100 dell'Eli I1 Che comunque è stata aggiornata da Manu Ovviamente in descrizione vi lascio il link per scaricare questa mod Così magari se vi piace la potete inserire nella vostra farm Quindi intanto che vi notate Mito che riempi di cacca le serre Lui preferisce maneggiare queste cose Io faccio sempre i lavori puzzolenti non so perché E nessuno gliel'ha chiesto quindi gli piace Allora, intanto però Giacomo non si sente più Lui sarà andato da qualche altro Io sono svenuto al negozio Sto a parlare con la cassiera Capito Allora ragazzi Leli I1 100 è molto più semplice Però guardate l'ho piazzato Già sai il fatto suo lui eh Credo Come funziona? È facile Leli I1 stop No, guardate ragazzi Guardate vi ricordate nello scorso gameplay Stavamo a diventare scemi Guardate sto qua Non gli ho detto niente Fa tutto lui È una meraviglia Questo sì che Ok è più brutto Si è confrontato con leli I1 150 Beh cosa vuol dire? Dato l'ambito in cui deve lavorare ci sta No, no, vabbè ha un aspetto Ha un aspetto più rozzo Però funziona È quello che conta E non ti mettere davanti Sennò questo si ferma Scusi No, qui il nostro robottino Programmato Tutto sommato Sempre meglio dall'altro E ha soldi come va? Niente Non costa niente? Non consuma niente Meglio di così No, quello se mangiava Quello a quest'ora per fare il suo lavoro Se mi fregava mille euro quasi quasi Ma quello se mangiava pure le mucche Te lo dico io Ma no perché ragazzi Quello lì Tanto costava tenerlo acceso Che sinceramente Era meglio tenere sporco Perché se tieni sporco Praticamente Producono il 10% in meno le mucche Sinceramente Meglio il 10% in meno Che spendere migliaia di euro Per far lavorare quel coso piccolino Ok Comunque vorrei aggiungere una cosa Si è sincronizzata la group vehicle switcher Sì sì lo so Lo so Non so come mai Però buono buono dai Sì sì Ora di fatti questa cosa qui funziona Anche Va bene allora Mentre l'Eli Uno sta pulendo Tranquillamente Io ne vado a mettere altri due Felice felice Uno dai suini Lo vado a mettere Questo però mi ricordo che dava dei problemi qua Mi ricordo a quei tempi Ora vediamo Lo devo mettere a forza da questa parte Guarda Giacomi Eccolo eccolo No io lo volevo mettere dall'altra parte Ma non me lo faceva mettere Comunque E' forte perché lui Sa dove deve andare Guarda Eh c'è il trigger Sì sì Guarda guarda Se non mi ricordo male Si poteva anche vedere il percorso che deve fare Mi pare Forse quando uno lo ferma Ma sinceramente a me mi va bene così Questo qui lo mettiamo Io lo metterei Qua Oh è storto dall'altro lato Cavolo E mo vediamo come fa Beh credo che vada uguale Speriamo che non si incaglia con le collision del capanno qua Ah quale collision? No guarda non ha collision Manco collision Cioè Perfetto Va bene Va bene così Vediamo se pulisce A voglia Vediamo Guarda che mucchio che c'è là Oh Oh è una meraviglia ragazzi Una meraviglia Finalmente Finalmente Abbiamo Nel Mendeni che potene acceso il server Oh Ora ragazzi C'è un'altra questione Il terreno 5 Se vi ricordate Avevo detto Ragazzi ci seminiamo il mais Che facciamo in zilato Mi pare Che Chi c'era che stava seminando Sicuramente era Poddy Vero? Mi pare Era 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 Poddy Era Poddy Allora Ho detto ragazzi Seminiamo mais Guardate cosa abbiamo Nel terreno 5 Girasoli Non è da ammazzare Poddy Ma magari lui ha visto Che erano Cioè Ha confuso i simboli Lo sai che confonde Chiava bisellini I semi di soli Mamma mia quanti Mito Ora io Io volevo fare L'insilato Ora invece faremo Un botto di girasoli E soprattutto Mi pare che con i girasoli Non possiamo fare Insilato Vero? No 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 Quindi Dobbiamo fare una bella Raccolta di girasoli Però i girasoli Sono pagati bene Va bene Quindi potremmo Mettere il tempo veloce Così che cresce Qua sto gaspita Di girasol Cominciamo a tirar fuori I mezzi Giacomino Così Vai vai Perché comunque Ormai sti terreni Vanno trebbiati Cioè mica Ok Intanto Ah ma oggi Oggi piove pure Qua su farming Oltre tutto Strano Comincia col sole Dice uno Vediamo se sta lama Il tubo qua Di scappamento Ok Sì No perché Se metto una lama Più grande Poi mi sa che Il camion Non ci passa bene Difatti Quindi questa lama È più che sufficiente Io mi sto prendendo cura Degli animali Comunque Non sono a gigiolellare Così In giro Va benissimo Mito Prenditi cura Degli animali Comunque tu avevi La lama gialla Così andavi Vabbè In tinta Eh vabbè Ma uguale Oggi facciamo Multicolor Vabbè Tanto quella O era gialla E verde Sì sì No quella era Verde Poderak Porta sfiga Ah allora vai Me la prendo io Così se faccio i danni C'ho la responsabilità Vai Verde Poderak Porta sfortuna Dieci anni di sfortuna È come lo specchio rotto Quella lama Mamma mia Quello so set È più economico Ah ecco Ok ci prepariamo Ragazzi Così Prima o poi Sto terreno Se si decide Perché tra poco piove E quindi non si raccoglie A prescindere Se piove Aspetta un attimo Che qua si è girata Questa cosa Ma una L'andrei a mettere Dall'altra parte Perché tanta Gestirle tutte e tre Col cavolo Ma muo Arrivo anch'io Eccolo là Sì no ma Ecco sono pronti Così vado a prendere Un camion Perché dobbiamo scaricare Sta roba poi Da qualche parte Il camion Aspetta che partiamo insieme Ah ecco No 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 Vai comincia Comincia Tanto tra poco Viene Coso Come si chiama Viene mito E coso chi Scusa Sono sempre io E vabbè Ho i nomi Dopo un po' Per i dimentico Comunque Devo andare a scaricare Qui ragazzi Abbiamo tantissima colza La mettiamo da parte Questa è Della Della raccolto Della volta scorsa Quindi Lo andiamo A scaricare In fattoria Vendere per ora Non mi interessa Per intanto Scaricamus E vado a dare Brevemente Un'occhiata Alla situation Forza Bello del zio Scarica tutto Mazza Quanto è lento Questo mi pare Che è il cassone Più grande Boh Non mi ricordo mica Quello rosso È il più grande E allora si È lui Ok Allora passiamo Un attimo ragazzi Dalle api Vediamo se stanno bene Se hanno bisogno Di noi Ehm Tanto minimo Minimo C'è la casetta Da aggiungere Ok Ci stanno tre Cassette di miele Più una cassetta Grande da inserire Dentro Al coso Scusami Però quello E vabbè Questo penso Sempre strano Compatto A posto Scarica Un'altra cassetta Piena Dice che aveva trovato Qualcuno Dentro la casetta Mito Era bellissimo Valla a rivedere Nel video Vabbè Vabbè Aspetta Sto tipo Non scarica Forza Così poco Che sta miseria Che sta miseria Miseria Vabbè Io pensavo Che mi dava Un'altra Cassetta Piena Oh E dai Un faccapricci E dai E mani morte Ti chiameremo Ok F1 Ah No Ah 61% E 100% Il miele Oh Devo toglierlo Ok Oh Però Il pieno di miele È semplicemente 90 Cioè Non è niente di che È un attimo Eh no Sì È un po' più poco Ok Arriva il miele Un pa Arrivo E poi Si vedono i prezzi Adesso sul Sul server Sì Le avevo visti I prezzi Comunque F1 Allora Milk 10% Ce n'è 6000 Vabbè Ma pure prima Era più o meno Quello Ok Vabbè Per ora Lasciamo produrre Praticamente C'è poco da vendere 150 Non ne vale la pena Sì Allora I prezzi Se vado a destra Sì Allora 10.581 Per Non so Che cacchio è Le api Eh L'ho visto anch'io Non so che cos'è Forse sono le casette Delle api Quelle là Non lo so Poi c'è credo Il miele 6000 Però 10.000 è tantissimo Eh ma Non ci capisco Granché Di cosa parla Vabbè Comunque Mi pare che qua Per ora Va tutto bene Ce ne possiamo andare Comunque Qui dobbiamo Aggiornare la casetta Ancora un po' Poi ne creiamo Un'altra Così lo teniamo pronto Poi quando serve Per scaricare Intanto Utilizziamo Questa trebbia Giustamente Giacomino Non è che ha lasciato Proprio Proprio bene bene Eh lo so Io so partito Dritto poi Poi Qualcuno ti ha tirato La mano Eh vabbè Lo lasceremo a mito Sta striscetta Io sto arrivando Parcheggio il trattore Così l'ho asciutto Per in ordine E arrivo Ok Intanto Raccogliamo Eh vada qua Eh girasoli Io che volevo Tanto fare I cosi Cavolo Insilato Volevo farlo Insilato E difatti Mo qua Poi diseminiamo E stavolta Seminiamo Il mais Mi raccomando Stavolta Stavolta mais Che ci voglio fare L'insilato Sì vabbè I girasoli Li paga bene O poi cavolo Terreno 5 Fatto a girasoli Mamma mia È enorme Infatti Tanta roba Eh già Lo so che c'è mito Che vorrebbe farlo Tutto da solo Però Gli diamo una mano A girasoli no A insilato Sì non c'è problema A girasoli È più divertente Che differenza c'è mito Eh bu Io amo l'insilato Farei sempre Solo l'insilato Quindi tu vedi La pannocchia E' etistica Eh sì Prima o meno è così Adesso hai ragione Tu Non ci ho pensato Te l'ho servito Su un piatto da gente Ai 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 Allora New Holland CR10 Che saresti te Ok E Altro da fare Mi pare che non c'è Anche perché comunque Il problema è che Insilato Non ne ho proprio più Ne è rimasto È rimasto uno sputo Dalle mucche Ma scusa L'altra volta Non l'avevi pulito Il silo Dell'insilato Non l'avevi finito di pulire? Eh si appunto dico non ce n'è più in teoria dovevamo fare per quello vabbè non ce n'è più però mi pare che e questo mito me lo può confermare mi pare che il macchinario quello che fa il cibo misto per le mucche dovrebbe essere ancora bello pieno di cibo no? Ah io non lo so Ah non hai dato cibo alle mucche vediamo fammi dare un'occhiata allora ho dato la paglia mi sembrava a posto il cibo energetico ce n'è metà non ho guardato per niente vabbè che animali suini mucche si vabbè cibo energetico sta iniziando a scendere però vabbè allora aspetta che vado subito guarda tanto finché no vabbè aspetto qua dai finché arriva giacor così partiamo tutti e tre a fare ma già siamo partiti qua nel terreno ah eh si 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 sono qui io sono vicino a te ma che fa l'hai tolta da là sotto? eh si se no ero da solo ero vabbè meglio soli che malaccompagnati no? no no io non voglio star solo soletto vabbè ma io mi voglio fare sta striscia qua che fa la lascio mo che ti trovi me lo dai anche a me la scaricata eh? eh pure 50 euro un colpo di mano vai giacomini 50 euro eh? io mo arrivo mi faccio scaricare la mia così la faccio ripartire guarda che me tocca fa a me raccogliere eh guarda che me tocca fa a me mi devo scaricare pure da solo eh beh oh ci voleva podrack per scaricare lui il cavolo lo sa guidare bene è una meraviglia quando poi rimane incastrato comunque dobbiamo stare attenti perché tra poco potrebbe piovere quindi rimaniamo fregati poi non si può lavorare ce ne dobbiamo andare a casa beh no dai abbiamo il tempo a uno dai ci dice bene ci dice bene si sono convinto sono convinto che non pioverà zionic ora di fatti ragazzi come vi stavo a dire grazie a questo Lely 1 lascerò il server sempre acceso e quindi la mia cacchio è la mia paleolica farà soldi ovviamente tengo il tempo il gioco a tengo il gioco a uno a tempo reale non mi va di barare e ritrovarmi naturalmente con 10 milioni in tasca teniamo il tempo normale anche perché poi il cibo delle mucche finisce quindi almeno sappiamo che quasi ogni volta quando ritorniamo qua dobbiamo tenere diciamo dobbiamo occuparci degli animali perché appunto ci ritroviamo poi con con le serre vuote se lascio il tempo che va avanti comunque che dobbiamo fare io sì ma io vorrei rimettere la trebbia dall'altro lato comunque perché voglio iniziare a coltivare perché comunque dobbiamo iniziare a coltivare dal suo lato vai ci pensiamo noi tanto arriva pure la mia qua sì tanto un operaio va messo a prescindere uno due operai poi c'era poti che ne metteva pure venti quel disgraziato per mettere sti cavolo di operai non ha proprio minimamente fatto caso che stava seminando girasoli invece del mais meno male che ho fatto un buona pappa con gli operai meno male che non ha seminato frumento guarda se quello quello sì che era peggio se seminato frumento che non vale niente e poi c'era pure da far la paglia ha voglia fare balle di paglia e vieni giù mito giù dove di qua ripartiamo no ah io partivo dall'altra parte vabbè ripartiamo insieme ok allora poi oltretutto questo poveraccio è buttato qua così come dire mo vabbè lo riporto un attimo a casa sto poverello anzi gli do una lavata già che siamo qua guardate cosa cioè che cosa fa mi tocca sto spingendo già stato a fare cose strane mentre io non ci sono mi devo preoccupare parli con mito io non c'entro niente io per il momento c'è qualcosa dietro poi è già quel qualcosa dietro mi fai capire male spingere e correre spingere e correre ma se tu sei sicuro che stiamo andando più veloce a me segna sempre dieci a me undici ah beh abbiamo fatto progressi ragazzi ok avanti ok ho dato una lavata a sto povero vecchio trattore di mito ormai lui non gliene frega niente quindi è il mio trattore è il mio preferito adesso ormai ormai quello a me non mi interessa c'è quello nuovo che sinceramente questo è meglio di quello nuovo perché quello è snodabile bisogna saperlo guidare bisogna saperlo usare l'altro trattore difatti non lo usi mai e beh perché faccio altre cose io faccio un sacco di cose sono multiuso si sono come il jolly a carte eh io vado a posare un attimo a posare più o meno peccato che non c'è il coltivatore incorporato ecco vedi gira soli mettiamo effettivamente c'è un mucchio di roba mettiamo ecco questo è il mais quel povero disgraziato di poddy non ha capito minimamente i simboli salutiamo poddy eh si salutiamolo e poi lo banniamo quando torna magari buongiorno disgrazie eh buongiorno poddy allora mettiamo questo qua per ora che poi mi serve andiamo a prendere la bestia andiamo a prendere il coltivatore speravo di non doverlo riutilizzare effettivamente la volta scorsa io non l'ho usato però eccomi qua mazza oh ma che è ok iniziamo ad aprire il coltivatore beh al massimo metti l'operaio sul coltivatore tu lo segui dietro tanto sei più piccolo del coltivatore non è una pessima idea però vabbè comunque mi va di fare un giro di coltivata di coltivatore mazza tenere dritto sto coso pare facile non lo è poi lagga pure quando lo uso no oggi laggiamo un po' tutti laggiamo è colpa tua e beh no no a me va preciso eh eh ogni tanto qualche bottarella me la dà che mi fa sbagliare strada a me e t'ha visto femmina per quello ti dà la bottarella dipende da dal player eh vabbè eh dovrì in poi mettere un lomino maschio dai così non laghi più eh no però se metti il personaggio maschio poi non veni più da dietro eh cioè io poi non accetto queste cose è vero è vero vabbè mettiamo l'operaio qua che andando mi vado a ricercare che ci fa già sei stufato no no ma c'è ci sta il trattore blu buttato in mezzo alla strada il mitico trattore di Giacomino lo parcheggio vicino a una roccia ok allora almeno così sappiamo che stavolta seminiamo il giusto a meno che non confondo pure io qualcosa ma questi sono questo è mais sicuramente al 99,9% quel 0,01 lasciamolo così la pio come scusa male che va quando arriviamo in fondo scarichiamo eh sul camion che c'è lì vicino sì sì eh ma io non lo so se ci arrivo sto al 63 adesso eh sì dai che ci arrivi ce la facciamo? sì 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 c'è l'altra da scaricare ma l'altra pure che si blocca non fa niente vabbè ma quello ci arrivo un attimo ok inizia la semina dei mais mamma mia quanto siete brutti con le lame di colori diversi grazie grazie io c'ho la lama troppo grande su questo coso ah sì? eh sì c'ho una capella enorme gialla cos'è che ha detto? capello si chiama capello è la marca ah io ho capito capella no no capello mica tu però pure eh ci metti il carico da 90 eh voglio dire non gliele crossiamo ste battute perché se no poi eh io qui l'ho capito se non è che ha detto la ma ha detto capello ma anche forse dovevamo vedere in che lingua l'aveva detto perché capella non vuol dire niente basta mo ci ti mette pure la lingua questo eh oh è che ne so eh c'è l'accento ci sono le doppie basta che discorso la capella non è una cosa sola dai va bene basta ok l'abbiamo capito lavoriamo la moglie del capello cioè ci stiamo ci stiamo cioè stiamo veramente per diventare qua quasi quasi dei ehm come si dice siamo in fattoria e facciamo quasi discorsi un po' strani siamo in fattoria si fanno i maiali mh a proposito di maiali poi li devo vendere ecco vedi me l'hai fatto ricordare è da un po' che non li vendo vabbè eh comunque comunque diciamo che può andar bene anche così va bene ho il tempo noto che è volato via e ci dobbiamo fermare ragazzi ci vediamo dal camion così metto la trebbia a scaricare eh sì io qui fermo l'operaio ragazzi purtroppo fare tutto il terreno 5 in un gameplay ma quando si è visto mai beh una volta l'abbiamo fatto però a forza di tagli l'abbiamo fatto a forza di tagli va bene ragazzi quindi per ora comunque abbiamo fatto già un terzo guarda guarda dove l'ha messo un terzo del terreno 5 no questo era l'operaio eh un terzo del terreno 5 l'abbiamo fatto speriamo quindi che il gameplay vi sia piaciuto adesso abbiamo questo l'eli 1 che lavora e quindi posso mettere il gioco che va avanti veloce veloce normale e quindi facciamo un po' di soldi con la paleolica va bene ragazzi quindi noi ci fermiamo qua speriamo che il gameplay vi sia piaciuto come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel mi piace in descrizione trovate i canali di mito di giacur ragazzi vi salutiamo ciao alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao